Ciao a tutti, sono Luigi della ditta Nauticaravan di Imola, siamo qui per l'ultimo video della stagione 2023-2024 ma con una importante informazione. Vi chiedo di iscrivervi al nostro canale e se il nostro filmato vi piacerà di mettere un like. Ciao a tutti, volevo informarvi che nel mese di agosto ci sono delle promozioni veramente interessanti. Infatti abbiamo la possibilità di proporre su Summit 5000 euro di sconto, Postle quindi, Summit 5000 euro di sconto, su Postle linea D ben 7000 euro di sconto e i medesimi 5000 euro di sconto anche sulla serie H. Bene, abbiamo pochi veicoli, però 5-6 mezzi con queste promozioni li abbiamo volentieri. Cominciamo con il 6 metri, 5 posti omologati, 2 win vario. Un mezzo che ha il letto matrimoniale nella parte superiore, un letto matrimoniale in coda, in questo caso ha i 5 posti omologati e 5 posti viaggio, il bagno è un bagno vario e ho la possibilità anche chi è veramente alto, quindi non il mio caso, ma chi è veramente alto, di avere uno spazio esagerato nella zona living. E quando il letto è fatto, ci si cammina lo stesso, stando leggermente, solamente un po' più inclinati. Bene, il bagno in questo caso è un bagno vario ed è sicuramente uno dei più capienti anche dal punto di vista degli spazi, così come lo è nella parte del letto matrimoniale posteriore. Infatti ci sono degli armadi molto molto capienti nella parte destra e nella parte sinistra. Postle 540 ROTCAMP R, versione tetto soffietto o senza tetto soffietto. 140 CV, veicolo bellissimo, con un'abitabilità nella zona giorno importante rispetto a molti 540. Infatti qui a sedere si riesce ad entrare bene e lo spazio del tavolo è importante e anche lo spazio delle gambe. Su questo veicolo qui, che è nella versione Elegance, montano le ruote di 16, il pacchetto all-in e quindi gli interni, appunto, alternativi e per quanto riguarda il bagno, è un bagno R. Quindi la possibilità di avere il lavandino pieghevole e nello stesso tempo potermi chiudere dentro per poter fare una doccia con tutto rispetto. In effetti è un bagno che si presta bene anche per le persone più grandi. Con la promo dei 7.000 euro siamo sotto ai 60.000, 59.982 euro, già comprensivo di immatricolazione, trasporto e preconsegne. Quindi su strada. Mi raccomando, tutti i prezzi li trovate nel nostro sito internet www.nauticaravan.com Così non ci stiamo a ripetere. Sul sito li trovate tutti. Andiamo avanti. Rotcamp R, in questo caso, si differenzia dal tetto a soffietto. Il tetto a soffietto, in questo caso, della SCA, quindi quello originale, con le ruote di 16, con il pacchetto LIN, con il tavolo alternativo, eccetera, eccetera, lo potete avere su strada a un prezzo di 66.411 euro. È identico agli interni del precedente che abbiamo visto, si differenzia solo di questo foro molto grande, in modo tale da agevolare il passaggio nel letto superiore. ecco qua, un gavone, anche in questo caso interessante per ambe due, e vanno per le bombole. Summit 600 Plus, Citroen, 5 posti omologati, 5 posti omologati. Ovviamente qui c'è Erkin Lake, Cruise Control, oscuranti plissettati, con zanzariera sulla porta d'ingresso, in questo caso con i 5 posti omologati. lo proponiamo ad un listino di 59.190 su strada, come mamma l'ha fatto, accessori successivi. Beh, cos'ha di bello questo veicolo? Ha un interessantissimo bagno vario, ben fatto, con la finestra nella parte laterale, una camera da letto veramente molto molto grande, in questo caso ha anche il kit del terzo posto letto, ha gli interni alternativi, quelli in quercia, e lo rendono un pochettino più ampio, perché è una tonalità di colore più chiara. Questo veicolo qui, sempre con promo Agosto Postle, lo abbiamo ad un listino di 59.190 su strada. Ancora in arrivo abbiamo un 6,40 con la versione Shine e sempre i 5 posti omologati che arriverà su settembre, di un 2Win R Plus, meccanica Citroen, colorazione bianco e dovremmo averlo sotto i 59.000, sempre un settembre. Ancora abbiamo un Road Cruiser 6,36, quindi letti gemelli, doccia centrale, anche in questo caso, in arrivo a settembre e di colorazione bianco, se non erro, con i 4 posti omologati, ma quello ne ha solo 4, insomma. Bene, queste sono le promo che abbiamo per agosto, però vogliamo ringraziare tutti quelli che quest'anno ci hanno dato fiducia, che hanno acquistato il veicolo da noi, quelli che sono riusciti a ritirarlo in estremis la scorsa settimana, ma anche quelli che non sono riusciti purtroppo a ritirarlo in quanto le targhe non sono arrivate. E qui abbiamo 5 esemplari, il Summit 600L, il Summit 540, Shine, due veicoli della Detlefs Globe Trial 600 con i vari bagni e un terzo Globe Trial, ma nella versione Advantage, che stiamo aspettando le targhe e le avremo ai primi, a fine agosto o ai primi di settembre. Noi andiamo in vacanza per un paio di settimane e riapriamo il 26, quindi vi ringraziamo per averci dato fiducia, vi ringraziamo per aver scelto la Nauticarra Vanimola per i vostri acquisti, per le vostre assistenze e per i vostri noleggi. E nello stesso tempo vi vogliamo fare vedere l'ultimo veicolo arrivato della stagione che poi è un Bijou 540 Sunlight Meccanica Peugeot, un veicolo su strada da 54.000 euro. L'abbiamo fuori che lo abbiamo lavato e lo andiamo a vedere. Arrivato fresco fresco il 540 con meccanica Peugeot della Sunlight, il Cliff 540. Questo veicolo qui è un mezzo che abbiamo acquistato con le ruote di 16 pollici, con la portata 35 quintali e con un pacchetto standard, quindi gradino, finestra del bagno e prolunga del tavolo. Abbiamo preso anche il kit terzo letto. Comunque è un veicolo che viene proposto, ed è questo molto interessante, viene proposto a 54.000 euro e ha ancora la promo immatricolazione, quindi tenete conto che avrà una scontistica di 1.500 euro, quindi 52,5 su strada e poi dopo vediamo quello che possiamo fare. È il primo veicolo in assoluto che arriva e finalmente, perché era qualche mese che doveva arrivare, anche se siamo in agosto pieno, il veicolo è finalmente arrivato. Faremo una recensione sicuramente a settembre perché sarà un articolo molto interessante. Bene, velocemente, colore bianco, ruote di 16, specchietti elettrici, cruise control, climatizzatore manuale, ASR, pacchetto di base, e in questo caso anche il kit terzo letto. Vanno per le bombole del gas, ben curato con un bel termoformato e i suoi scarichi, finestre posteriori, finestre laterali e oblò sul tetto. È un veicolo che ha come 5,40, è uno dei 5,40 che ha il bagno più grande in assoluto. Bene, poi sarà da allestire, gli si può mettere la veranda, eccetera, eccetera, insomma. Bene, questo è l'ultimo arrivo della stagione 2023-2024. Al primo di settembre comincerà la stagione nuova e avanti si riparte. Bene, grazie di tutto, grazie tante di averci seguito, grazie di esservi iscritti al nostro canale, siamo arrivati a 13.000 e oltre e quindi siamo proprio contenti. e nello stesso tempo vi chiediamo ancora di iscrivervi ancora al nostro canale, la possibilità di mettere un like così saprete i nostri nuovi video e buone, buone, buone vacanze. Riposatevi, riposiamoci che ne abbiamo bisogno. Ci vedremo a settembre con l'apertura dell'azienda dal 26 e poi ci rivedremo come di consueto a Parma presso gli stand che rappresentiamo. Ciao a tutti e buone vacanze.